Design per il benessere nei luoghi di lavoro, altro workshop organizzato da Action Group il 14 novembre 2013 presso il Centro Congressi Torino Incontra di Vianino Costa 8 a Torino. Organizzato in collaborazione della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino, il workshop vede riconosciuti sei crediti formativi dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino e due crediti formativi dal Collegio dei Geometri di Torino e provincia. L'intervento ovviamente è strettamente collegato al workshop di oggi però la mia puntualizzazione è sul rapporto tra design ed ergonomia, ergonomia è una disciplina molto importante che a volte mi permetto di dire non è sempre strettamente collegata alla filosofia del design, io volevo rimarcare questa importanza oggi e farne capire il nesso assolutamente stretto. L'oggetto principe degli studi dell'ergonomia, pertanto ragionare appunto sul rapporto ergonomia ed luogo di lavoro ufficio è strettamente indispensabile, quindi è ricordare anche una forte appartenenza normativa. Direi che il connubio tra la parte scientifica durante gli interventi didattici e la parte della presenza invece concreta delle aziende che possano apportare il loro rapporto direi che secondo me è un connubio assolutamente imprescindibile e che tra l'altro Ordine degli Architetti e Fondazione hanno strutturato il migliore dei modi e credo che sia un'esperienza da ripetere anche in altri comparti. Grazie